sì 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 perché adesso è tutta chimica tutta chimica ci ha comprato anche l'insalata visto lì da meravigliare ha fatto quelle serre pieni d'acqua c'è tutto insalato sì 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 ma lei sa quanti ormoni quanta roba che ci dà tutto rubato tutto rubato in dieci giorni invece lei col macerato di urtic come diceva toglie pidocchi e muffe e animaletti così rimane bella sana si può mangiare tutto anche la buccia non sbotta via niente al peschi lavare un profumo che è uscì il fintente agli ombrelloni uscì c'è un profumo adesso quello da adesso ha il profumo alla posta della chimica quello che sente là in giro o se no non ha profumo o se no non ha profumo per niente ma è tutto 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 perché come dicevamo tutto per un discorso mica da diventare ricchi per sopravvivere perché il contadino ormai non prende più niente e il contadino è pure le lottum da cuved tu ti guadagni ma quel che l'ha fatto che l'ha tirato con amore e con con passione il contadino in più ci mette tutto l'amore tutta la passione che io ho sempre fatto il contadino tanto sono nato il contadino e moro il bello è quello vero? io ho fatto il contadino ci mancherebbe altro e quanto veniva a casa da scuola mi mandavo dietro le branche di me e davanti le mie citerarano a terra eh ma cadè adesso vanno il piscine che vanno giocare in tutti io sono sempre stata l'amore che sono nata contadino però sono contenta perché è bella quello si vede si vede si vede che è stata bene perché se no la lancierebbe qui perché un po' a testa melo la fine a a a a a a a la frase che ha detto la frase principe che era l'esso nonata contadina e muoio contadina che è la frase più bella che ci può che una persona che un essere umano può dire si si può dire immaginare. È la fine del mondo, è la fine del mondo. È la fine del mondo, quello che hai appena detto. In senso buono però, perché c'è anche la fine del mondo, no? In senso negativo, che poi è quello che stiamo attraversando noi in questo periodo storico. Purtroppo a San Mesmer. Per certi versi ha fatto bene, per altri si pensava che la gente quando una volta uscita si sentisse, si comportasse finalmente nella maniera giusta. Invece sembra che non sia così. Forse perché adesso è ancora presto, non lo so, ancora non hanno metabolizzato, sono nervosi, sono impauriti, ma dovrebbero essere più buoni, più bravi e più belli. Adesso dico, il tempo si spera che lo diventi, si spera sempre. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare le cose fatte bene, di essere bravi, buoni, di cuore. Tutto quello che facciamo lo facciamo con passione, lo facciamo anche con tanta generosità senza aspettarci niente, perché ci mancherebbe altro. Il discorso è vecchio. Io le auguro tanta felicità, tanto tempo ancora. Io sono allegra, sono sempre stata così allegra, mi sono sempre fatto coraggio, sempre lavorato con me. Amo l'allegria e la freschezza mentale, anche se mi diceva prima che era una contadina, ma non c'entra mica niente. Cioè col discorso del no. No, siamo l'ultimo ruoco del carro. Sì, ma nello stesso tempo, sì, però siete i principi, i baluardi di come deve essere la specie umana. umile, umile, generosa, nella sua povertà economica, ma non di spirito. Avete una ricchezza dentro, che donate anche al mondo, che è quasi in estinzione. Una volta gli ne era più, no? si aiutavano l'un con l'altro. Dove era possibile, c'era più generosità, c'era più eh. Adesso questo tutto è sparito. Va bene, va bene, dai. La sera di trap noi andiamo in Toscana, gli uomini giocavano le carte. Noi donne facevamo con la colore, diciamo, filano. Sì, 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 con le cardenze. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. No, io non grazie. Tutta un'altra letta, tutta un'altra musica, altri tempi, i bei tempi andati che non torneranno mai più. Non torneranno mai più. Purtroppo quello, quello... come adesso. Quella savante, un torna più, tutta quella roba... tutta la roba bella un torna più. È il suo posto e è la gran roba brutta. Eh, perché... nonostante che uno speri sempre perché, no, il cambiamento porti... e invece non porta niente di buono. No, perché... Noi rimaniamo, no? C'è un po' smago adesso. Sì. Noi cercheremo di rimanere come siamo. Sì. Puri, belli, generosi, istintivi e amanti della vita. Vero? Sì, sì, così. Così andiamo lontano. Sì, sì. E ci ricorderanno. Perché è anche bello farsi ricordare un domani a dire che lei era una brava persona, buona, generosa, gli aveva tutti. Ah, così io ho nel cuore mio nonno e avrò nel cuore mio padre e spero che gli altri abbiano nel cuore il sottoscritto. Wagner Sozzi Monti. Messo Romagnolo.